Figlia di Omicron 1 e Omicron 2, la nuova variante ricombinante del Covid-19 si chiama XE ed è già pronta a prendersi la scena, nonostante la fine dello stato di emergenza sanitaria. A preoccupare, come sempre, l'alta contagiosità della nuova variante, che impone precauzioni figlie soprattutto del senso di responsabilità di ognuno di noi, ora che lo stato di emergenza è decaduto. A ribadirlo è anche il professor Alberto Albani, dal 2000, referente sanitario delle grandi emergenze della regione Abruzzo, che dal 1 aprile ha passato il testimone a Franco Marinangeli, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Rianimazione della ASL dell'Aquila, nominato con decreto dal governatore Marsilio. Professore Alberto Albani, due anni di emergenza sanitaria legata al Covid-19, possiamo fare un sunto di quello che è accaduto in questi due anni? Ricordando però che lei è stato responsabile delle emergenze dal 2000, quindi ci sono stati anche altri avvenimenti che hanno preceduto la pandemia. Sì, purtroppo questa regione è la seconda del rischio sismico, per cui abbiamo avuto sia il terremoto dell'Aquila sia il terremoto di Amatrice, che abbiamo dovuto affrontare in condizioni di emergenza, mi ricordo momenti molto brutti, abbiamo avuto la tragedia di Rigopiano, l'emergenza neve e gli ultimi due anni, come diceva lei, sul Covid, che hanno visto tutti gli ospedali abruzzesi, tutti i componenti della componente sanitaria, dare una risposta veramente eccezionale. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti sanitari di tutti gli ospedali, tutte le ASD, la regione, gli uffici della regione, che hanno consentito in questi due anni di dare una risposta a livello di efficienza e efficacia veramente alta. Cioè in questi ultimi due anni la risposta al Covid è stata veramente, veramente ottimale, grazie all'aiuto di tutte queste figure che, ripeto, ringrazio ancora una volta. 31 marzo, fine dello stato di emergenza, la pandemia però non è finita. No, la pandemia non è finita e alcuni segnali ci fanno preoccupare. Per questo spero che i nostri concittadini, i nostri corregionali abbiano la prudenza di utilizzare ancora le mascherine negli spazi chiusi, il distanziamento sociale, perché il periodo di Pasqua deve essere un momento di pace e di serenità, ma anche di prudenza. Ci sono indizi che potrebbe arrivare una nuova variante, l'XE che arriverà dall'Inghilterra, ma è già purtroppo presente in molti paesi, e questo ci fa preoccupare, perché queste varianti sono molto diffusive e aumentando i numeri e quindi le percentuali di persone positive, purtroppo automaticamente aumenteranno anche le persone che possono andare incontro a complicanze e quindi a ricovero in ospedale. Io ho passato il testimone dal primo aprile al professor Franco Marinangelo, a cui mando i più fraterni saluti, e soprattutto un grande, grande in bocca al lupo e qualunque cosa di cui possa aver bisogno sono a sua disposizione. E anche per lui sarà un periodo complesso, perché veramente ci attendono ancora dei mesi profondamente pesanti dal punto di vista dell'assistenza sanitaria. Professore, lei rimarrà comunque a dirigere il Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'ASL di Pescara, ancora per un mese, in attesa che comunque si faccia un concorso per trovare un suo sostituto. Qui che situazione lascia? Anche questa è molto complessa, perché sappiamo tutti che il pronto soccorso di Pescara è più grande in Abruzzo, uno dei più grandi in Italia, con i suoi quasi 100.000 accessi. È una situazione pesante, proprio in questi giorni l'ASL ha fatto una convenzione con delle strutture private, al fine di poter indirizzare i pazienti puliti e quindi di poter garantire uno svuotamento del pronto soccorso, non soltanto all'interno dell'ospedale, ma anche in strutture esterne, al fine di decongestionare proprio la struttura stessa del pronto soccorso. Allora noi chiudiamo dandole comunque tanti auguri per questo importante traguardo della sua pensione. Grazie, ringrazio la stampa e i mass media che in questi anni mi hanno supportato, hanno consentito che alcuni miei messaggi arrivassero alla popolazione. ringrazio tutta la popolazione per il contributo che ha dato in questi due anni che si è comportato in maniera molto molto buona. Grazie a tutti.